Ma è vero che l'insulina fa ingrassare? Che se vogliamo rimanere magri dobbiamo evitare i picchi insulinici? E dunque in ultimo, è vero che le dieta ad alti carboidrati ci fanno mettere su grasso? In questo video chiariremo quello che è il ruolo dell'insulina e capiremo perché il problema non sono i carboidrati, ma il modo in cui vengono gestiti. Divideremo nello specifico il video in tre parti. Nella prima parte capiremo il ruolo fisiologico dell'insulina in maniera molto spiccia. Una seconda dove capiremo quando e perché l'insulina fa ingrassare. E la terza vedremo come evitarlo e cosa dobbiamo fare. Prima di iniziare vi ricordo che potete darci un supporto molto importante per questo canale iscrivendovi. Per voi è soltanto un click, ma a noi dà un incentivo molto forte per continuare a investire su contenuti come questi. Quindi se vi piacciono cliccate qua sotto e noi andiamo col video. Partiamo da un presupposto, l'insulina non fa ingrassare. Sarebbe come a dire che il postino che arriva a casa tua è quello che ti fa le multe. In realtà se hai preso una multa non è colpa del postino, non è neanche colpa del vigile. La colpa è la tua che hai fatto un'infrazione del codice della strada. Allo stesso modo non è l'insulina a farti ingrassare e non sono neanche i carboidrati. Ingrassi se mangi male se non hai un'alimentazione bilanciata. L'insulina in realtà per il nostro corpo è fondamentale. Proprio per sopravvivere. Al punto che i diabetici che non producono insulina devono iniettarsela per via esogena. Cos'è allora questo ruolo dell'insulina? Cosa fa l'insulina? Ecco, il suo ruolo è quello di mantenere un'omeostasi della glicemia. Capiamolo meglio. Immaginiamo che questa sia la nostra cellula. Quando mangiamo dei carboidrati sta arrivando del glucosio. Ora questo glucosio quando entra nel nostro torrente ematico, quindi nel nostro sangue, di per sé non può rimanere là. Perché andrebbe in giro a causare tanti danni fino a farci di base morire. Oltre a questo il glucosio è importante per la sopravvivenza della cellula. Nel senso che affinché la cellula va ad espletare le sue funzioni ha bisogno del glucosio. Il ruolo dell'insulina è proprio far questo. Cioè fare in modo che il glucosio entri nelle cellule. E come fa? Questi puntini blu che vedi sono i GLUT4. Sono dei recettori del glucosio. Immagina come dei ciuccetti che vanno a permettere l'entrata del glucosio. Non so come dire. Permettere l'entrata del glucosio nella cellula. Ora, quando il glucosio arriva, il livello di glicemia, quindi il livello di glucosio nel sangue, si alza. Quando si alza, il nostro pancreas va a produrre, rilasciare insulina. Quando l'insulina arriva qua, nella cellula, quello che fa è portare i GLUT4 in membrana, farli traslocare in membrana. Quindi i GLUT4 arrivano qua e a questo punto il glucosio che sta tutto intorno alla cellula può entrare. Ora, il problema e il motivo per cui si dice che l'insulina fa ingrassare è che questo esempio per la cellula vale sia per il miocita, quindi la cellula muscolare, sia per l'adipocita, la cellula adiposa. Dunque, se nel caso del muscolo questo meccanismo serve per fare in modo che le riserve di glicogeno muscolare vadano a saturarsi e sovracompensarsi, tu dirai, nel caso del tessuto adiposo, questo ci porta ad ingrassare. Quindi, vedi che l'insulina ci fa ingrassare? Aspetta un attimo, perché non è così semplice. Arriviamo alla seconda parte. Quando è che l'insulina ci fa ingrassare? In realtà, non semplicemente quando ci sono carboidrati che schiaffa un po' nel muscolo, un po' nel grasso, siamo grassi, questo è. In realtà l'insulina ci fa ingrassare quando c'è un surplus calorico esagerato. Quindi stiamo mangiando troppe calorie rispetto a quelle di cui abbiamo bisogno. Immagina che ci sia una casa in cui il proprietario o la proprietaria è super fan dei vestiti, è fan della moda e compra tantissimi vestiti. È un po' come una persona che mangia tantissimi carboidrati. Ma il problema è che in casa ci sono degli armadi piccoli. Quindi a un certo punto compra vestiti, compra vestiti, va a saturare gli armadi ma rimangono dei vestiti in giro. È esattamente come nel caso in cui mangio carboidrati, mangio carboidrati, mangio tante più calorie rispetto a quelle di cui ho bisogno e ci sarà un eccesso. Ora nel caso dei vestiti, non so che cosa si fa, si comprano gli armadi, si mettono da una parte, si danno in beneficenza. Nel caso delle calorie noi abbiamo una scorta, un deposito che possiamo aumentare che è quello del deposito apposo. Che tra le altre funzioni serve proprio a questo, a un tessuto, a uno storage di energia di deposito. E quindi ingrassiamo. Ma non sono i carboidrati nello specifico, sono in realtà il fatto che abbiamo tante calorie, troppe. Che se noi idealmente mangiassimo tanti carboidrati ma fossimo sotto il nostro fabbisogno energetico, allora insulina o non insulina noi non ingrasseremmo. Ok, perfetto Ludo, quindi non ho capito. Sono i carboidrati, sono le calorie, sono i grassi, cos'è che ci fa ingrassare? Ecco, in realtà tra carboidrati, grassi, calorie, i carboidrati sono proprio quello che ci fa ingrassare di meno. Perché questo? Prendiamo questo esempio. Nel caso del tessuto adiposo non è così semplice, cioè non è che i carboidrati entrano dentro la cellula e magicamente diventa grasso. In realtà si va incontro a un processo che viene definito DNL, di nuovo lipogenesis. È un processo che indica la creazione di tessuto adiposo, di adipe, a partire però da altri substrati che possono essere le proteine o i carboidrati. Comunque è un sbattimento, devo prenderlo sul strato, trasformarlo. C'è una certa dispersione di energia in questo. Quindi sostanzialmente quando si mangiano tanti carboidrati, sì, ovviamente si accumula grasso, ma una buona parte viene dispersa in calore. E questo è il motivo per cui molto spesso con pasti molto ricchi, per esempio una cena fuori, quando mangio tanti carboidrati, la sera inizio a sudare, sento come si alzano temperature. Molti atleti in preparazione contest, in preparazione gara, si accorgono che nei periodi di refeed iniziano a sudare, appunto da avere una parte di calore, sentire molto più caldo. Ecco, non è che sto bruciando tante calorie, è semplicemente che c'è una buona dispersione in calore. Dunque da questo tiriamo fuori tre punti importanti. In prima battuta non ingrassiamo quando mangiamo troppi carboidrati, ma ingrassiamo quando mangiamo troppe calorie. Il bilancio energetico è il primo fattore che determina se ingrassiamo o meno. Seconda battuta, ingrassiamo soprattutto perché quando ci sono tanti carboidrati e tanti grassi in giro, il nostro corpo prende i grassi e li utilizza direttamente come substrato di riserva, di trasforma in grasso, e sceglie di utilizzare i carboidrati come substrato energetico primario. Questo perché da una parte i carboidrati sono molto più efficienti nel creare energia, che è una creazione di energia molto più rapida. Dall'altra, come abbiamo visto, vogliamo mantenere un'umoestasi glicemica, vogliamo smaltirli il prima possibile, nella maniera più intelligente possibile. Seconda battuta, convertire i grassi in grasso è molto più facile. Quindi utilizzare i carbo come energetico e utilizzare i grassi come substrato di deposito è la maniera più efficiente in cui il nostro organismo può organizzare le cose. Come si suol dire, non è la pasta che fa ingrassare, ma è il suo. E il terzo punto è che in un contesto di surplus calorico, una dieta ad alti carboidrati tenderà a farci ingrassare meno rispetto a una dieta ad alti grassi. Ora, su una cosa voglio essere chiaro, non è che se mangio tantissimi carbo e non mangio grassi, allora non ingrasso. Semplicemente questo processo sarà un po' meno efficiente, avrò delle distorsioni, ma se mangio troppo, ingrasso. Punto. E arriviamo quindi alla terza parte. Allora, in soldoni, come devo fare? Per punti chiave, il primo, il surplus deve essere sensato, cioè devo salire di circa il 10% rispetto alla mia norma calorica. Ora, la domanda che sorge spontanea è, ma perché l'Ugo? Allora, in contesto di off-season, gli atleti arrivano a mangiare così tanto? Ecco, se segui questo canale dovresti già sapere, quindi scrivi uno qua sotto nel mail. Il secondo punto, lavoriamo sul timing dei nutrienti, cioè quando mangiare i nutrienti nel corso della mia giornata, cioè carbon mangio a colazione, a pranzo, eccetera, come li distribuisco. Se ti interessa, ci dedicherò un video specifico e scrivono qua sotto nei commenti. Però, in maniera molto semplice, quello che possiamo dire è che la strategia migliore è quella di concentrare il grosso dei carboidrati tra il pre, l'intra e soprattutto il post-workout. Questo perché l'allenamento ha un processo insulinomimetico, quindi sostanzialmente mima l'azione dell'insulina, quella che abbiamo visto prima, di traslocazione di glute 4 in membrana, ma lo fa in maniera specifica del tessuto muscolare, quindi non sul tessuto adduoso. E questo, logicamente, è un processo normale che, da un punto di vista evoluzionistico, ha senso perché l'allenamento ci porta a una forte spinta del sistema simpatico, porta alla produzione di tanti ormoni controinsulari, quindi tende ad aumentare la glicemia, e quindi il nostro corpo, dal momento che questa glicemia aumenta in assenza l'insulina, deve trovare un modo per smaltirla e per far nutrire il muscolo. Ecco, il modo è proprio questo, quello di avere questa azione insulinomimetica. Quindi, concentrando i carboidrati al ridosso dell'allenamento, io avrò una via preferenziale degli stessi verso il tessuto muscolare a scambio di quello a riposo. E l'ultimo punto, manteniamo il cardio, l'attività cardiovascolare e il NEAT, che è un certo grado di attività fisica. Se stiamo sugli 8-10 mila passi al giorno, io mi misuro qua con il Gloring, lo sapete già, ne ho parlato spesso, che personalmente trovo più comodo il primo orologio, è preciso, mi misura il BPM e mi mette tutto quanto nella mia app. Dà tutti i dati, i passi, i battiti cardiaci, i cervelli, i livelli di stress, eccetera eccetera. Mantenerci attive ci permette di migliorare quello che è il partizionamento dei nutrienti, in particolare la gestione degli stessi. Quindi, di nuovo, sempre cercare di utilizzare i carboidrati come substrato energetico, andare a veicolarli principalmente verso il tessuto muscolare e meno verso l'oradiposo. E oltre a questo ci fa stare meglio, ci carica gli endorfine, ci permette di migliorare la salute gastrointestinale, di gestire meglio, di digerire meglio quello che mangiare. Questi sono tre punti fondamentali in cui possiamo racchiudere tutto quanto. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, ricordatevi iscrivervi al canale, commentate qua sotto qualsiasi dubbio, stanno qui a te rispondere e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie.